Toccherà anche Pizzoli, lunedì 21 marzo, il tour salva risparmiatori che i deputati del Movimento 5 Stelle e della Commissione Finanze in Parlamento stanno portando in molte città italiane. A Pizzoli oltre 1.500 risparmiatori sono stati vittime del crack di Banca Etruria. Il tour salva risparmiatori ha toccato la città di Chieti, dove il caso Carichieti non è stato l'unico argomento dell'incontro che ha visto grande partecipazione di pubblico. Si è parlato infatti di tutti gli argomenti relativi ai rischi reali che i cittadini corrono per i loro risparmi e gli argomenti del caso Banca Etruria, Bail e di tutti i casi di Bad Bank. Intanto, spostandoci a Teramo, dopo il salvataggio della banca padovana, il gruppo BCC di Roma operante in maniera stabile nel territorio aquilano si dichiara disponibile ad assorbire la banca di Teramo se non ci sono alternative, così dichiara il presidente Francesco Liberati. Vorrei a questo proposito dire una cosa definitiva. Noi siamo stati chiamati, interpellati dal consiglio di amministrazione della banca di Teramo in ordine alla possibilità di una eventuale aggregazione tra loro e noi. Il consiglio di amministrazione ha valutato positivamente questa cosa ed ha iniziato questa due diligence che finirà da qualche giorno. Ma attenzione, noi vogliamo essere molto chiari, se qui c'è qualche banca nell'Abruzzo di credito cooperativo che ha la capacità patrimoniale, organizzativa di farlo, ben venga. Noi, però che non si dica che noi non siamo abruzzesi, insomma, no? A parte sul piano personale, io sono abruzzese dalla nascita qui all'Aquila, ho tanti bei ricordi, mia moglie si è laureata qui all'Aquila. Ma poi quello che abbiamo fatto noi per l'Abruzzo, insomma, e per questa provincia dell'Aquila, abbiamo veramente fatto molto, insomma. Grazie.